ciao a tutti ragazzi da the face game al numero 5 cos'è questa roba no cos'è? abbiamo la intro del top 5 ragazzi oddio ma che cazzo è sta roba è un Pokemon che cazzo è? vai Caterpillar scelgo te Caterpillar ma è un crappier ma è un coccodrillo che cazzo è? E' un verme, ragazzi Ma com'è possibile? Il Pokémon, l'acqua, un cazzo si chiama Ma com'è possibile? Ma che cazzo è quella roba? E' un soldato E' un allungato E' una giraffa Fermo, 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 fermo Fermo, dimmi Non lo so che cazzo, è un alieno Ma dai, guardalo Entra pure dentro di tu Ma cosa fa? Ma è una merda Ammazzatelo, un essere alieno Ma cos'è? Oh mio Dio Se avete altri bug, così inviateci, ragazzi Anche di altri giochi, mi raccomando Per l'amor di Dio Non ho mai visto una roba assina Al numero 4, ragazzi C'è il soldato antigravitazionale Ma cosa sta succedendo? Guardalo E' piegato Ma scusami, sono delle robe O è stanco Guardalo, guardalo O è un fulcro gravitazionale suo Oh mio Dio Al baricentro basso No, al baricentro storto Oh mio Dio E' come una moto in piega, guardalo Guardate Guarda come fa bene la curva Sembrano, sai, i pattinatori su ghiaccio Ma lui si accorge Guarda che adesso No, guarda che adesso Mettezzo il braccio Sembra un pattinatore su ghiaccio Sei quelli che Oh mio Dio Guardatelo Ma guarda come corre E' possibile Lo assurdo Non ci credo Bellissimo, ragazzi Al numero 3, invece C'è il soldato Dalle gambe da ballerino Non so come dire Ma sono tutti incastrati Guardalo Ma sono tutti strani Già lo vedi che non si muove tanto bene Vedi che non è proprio normale Ma adesso Ma si sono spaccate le caviglie Corre come un deficiente Ma come cazzo è possibile Non lo so E poi si stende Tutti quanti a conquistare il punto Quello lì si divertono Ma li saranno slogate le caviglie Che cazzo ne so Obiettivamente Io perderei tutta la partita Guardalo Guardalo Ma guarda E' proprio storto Ha le gambe Come zambarotta E' meno matto Le gambe meno matto Esatto Ma pensa a te Cioè guardate Cioè guardate Io veramente non avevo mai mai visto Una coppa del genere in Battlefield E aspetta che non te ne hai visto ancora niente Perché veramente Guardate l'amico che lo segue Cioè la top l'ha fatta Taylor Io la prima volta che la vedo Siamo in due Siamo Sono rimasto stupefatto Ma se questa è la numero 3 È il numero 2 Ah il numero 2 ragazzi C'è quello che Guardate C'è un piccolo sclero ragazzi Ma è vivo o è morto? È vivo È vivo È vivo È vivo Ma aspetta E' l'incrocio tra un uomo e un Tremor Sì è un Tremor Ma cosa come fa? Non lo parlo Guardate sta Ma è veloce Guardate Io vorrei vedere cosa Sta nuotando Ma io vorrei vedere cosa È uno Street Shark Come cazzo fa Quattropina all'orizzonte Gli Street Shark Io vorrei vedere cosa Cosa sta guardando Io vorrei vedere cosa Vedono i nemizi È diverso Ma io non gli sparo A parte che adesso gli sparo il suo amico Guardate che bravo Gli sparo Dai muoviti ancora Dai che mi diverto Muoviti muoviti Mi piace se ti muovi Ragazzi al numero 1 abbiamo Gesù L'angelo Ragazzi Oh mio dio Ma cosa hai in mano? Guarda mamma Sono un aeroplano Ma come niente? Sono un aeroplano Ma come te? Come te? Tu sei da idiota È arale È arale È arale che corre così È soldato arale Ma è un po' impedito Sembra che si sia cagato addosso Ma guarda che ha le braccia Cioè non ha neanche un'arma in mano Ma cosa può fare? Niente ti corre addosso così Ma se te lo serve Per far ridere gli avversari Lo mandi lì E lo mandi Sei andato stupido E dopo gli ammazzi tutti Ma ragazzi Se il video vi è piaciuto Continuate a inviare anche voi Le vostre clip bug Anche di altri giochi Non sono dibattuti Abbiamo anche un secondo canale Social Game TFG Mi raccomando E in descrizione ci sono Pagina Facebook E i nostri profili pubblici Perché a questi due idioti Gli piace farsi rompere i coglioni Quindi andate a iscrivergli merda Soprattutto a Taylor Ciao a tutti Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao